Ecco amici di Ciao Como, questa è la grossa buca che si è aperta proprio sul lungolago di Como, come potete vedere è decisamente molto profonda, si trova sulla corsia dei bus, gli operai oggi stanno lavorando, ci vorranno almeno un paio di giorni per chiudere definitivamente la buca. Una settimana per aprire strada, almeno una settimana per aprire? Ok, ecco avete sentito, quindi una settimana per la completa riapertura del lungolago, come potete vedere la buca in effetti è molto molto profonda ed è proprio vicino alla gelateria ceccata, anzi di fronte proprio alla gelateria ceccata.